Portare immediatamente il costo del gasolio al prezzo massimo di 50 centesimi, fermo biologico, facoltativo, cassa integrazione straordinaria e retroattiva dal 10 gennaio 2022 per gli imbarcati, blocco dei mutui per un anno per armatori e marittimi. Sono queste le richieste inserite nel documento redatto dalle marinerie anche abruzzesi. La decisione è stata presa durante la partecipata assemblea svoltasi d'Ancona per valutare se continuare o meno lo sciopero legato al caro gasolio, il cui prezzo è salito ancora a 1,20 centesimi al litro. Ma alla fine dell'incontro, oltre al documento, è stato deciso di proseguire con lo sciopero delle marinerie dell'Adriatico, che ricordiamo sono in astensione dal lavoro dal 23 maggio, questo fino a quando non ci saranno delle risposte da parte del governo. Abbiamo una situazione veramente drammatica, non esasperata, drammatica in tutti i sensi. Noi come Federpesca abbiamo cercato di risolvere e portare avanti queste situazioni. Ultimamente è stato approvato anche il famoso decreto, quello dei 20 milioni di euro, che dovrebbero darlo sotto forma di gitti all'impresa di pesca, di cose eccetera. Cioè gitti nel senso come un aiuto all'impresa di pesca. E' stato anche approvato il famoso decreto, sembra quello nell'Ucraina, per quanto riguardava il caracassolio, che è stato riconosciuto il credito d'imposta del 20% sui prodotti petrolifili acquistati nel primo trimestre. E' stato inserito nell'emmendamento al Senato, quindi un ulteriore progetto per ulteriori tre mesi, quindi fino a giugno speriamo che passi anche questo, ma comunque sono sempre pagliativi. Non sono delle risorse o delle indennizze che vanno a compensare il mancato reddito e il mancato guadagno. Questo purtroppo noi come Federpesca l'abbiamo detto tantissime volte e tanti anni. La pesca va programmata, deve essere fatta una riforma strutturale del settore, perché non possiamo sempre, cioè lo Stato non può intervenire con i finanziamenti a tambone, a piogge, che risoprono momentaneamente la situazione, però poi ecco rimane. L'abbiamo visto con il fermo biologico, lo stiamo vedendo col caracassolio, lo stiamo vedendo con il problema dei molluschi bivalve, cioè delle draghi idrauliche che stanno ferme, perché il prodotto è ancora piccolo, quindi non possono tornare in mare. E loro sono fermi da settembre 2021, hanno ripreso l'attività al 2 maggio, hanno fatto due pescati e si sono dovuti firmare di nuovo, riprenderanno adesso il 15 giugno, speriamo che va bene, però ecco come dicevo, tutti i settori della pesca, quindi tutti i sistemi sono praticamente in sofferenza e per noi questa è una grossa perdita sia per quanto riguarda i posti di lavoro, ma anche per quanto riguarda tutto l'indotto dalla pesca.